Qualche ora ci siamo augurati che fosse uno scherzo e quindi che sarebbe arrivata una smentita. Siccome non è arrivata una smentita mi pare che ci sono solo due ipotesi. Una che non sa cosa vuol dire il lavoro oppure che abbia deciso che i lavoratori non debbano avere più né giusta retribuzione né diritti contrattuali. Noi pensiamo che la manifestazione, la grande manifestazione che stiamo facendo oggi, debba indurre in governo amici consigli ad aprire il tavolo contrattuale. Certo se non aprirà decideremo come proseguire. Quello che è certo è che non staremo fermi.